L'Italia è la prima nazione europea che si è dotata di una legislazione in merito al trattamento del dolore cronico. Esiste una legge, la legge 38 del 2010, che sancisce per il cittadino italiano il diritto di accedere alla cura del dolore cronico. Questa è una legge molto importante e Feder Dolore è presente in questo scenario. Grazie a tutti.